Oggi continuiamo la lettura del libro Le 24 chiavi della crescita, o meglio del capitolo 9, in cui vengono trattati gli asset di prodotto, suggeriti da Daniel Presley, e andiamo avanti con il dodicesimo asset, ovvero i prodotti principali, che vi leggo. Dodicesimo asset, i prodotti principali. Questo tipo di prodotto è la principale fonte di guadagni per un'azienda, e ciò per cui si è più conosciuti. Per BMW sono le automobili, per Google AdWords, per Montblanc le penne, o come le chiamano loro gli strumenti da scrittura. Un prodotto principale ha lo scopo di fornire un valore significativo al cliente e deve quindi risolvere un problema o soddisfare pienamente un'esigenza. Gli omaggi e i prodotti per prospect, di solito, educano o divertono, cercano di stimolare l'appetito, mentre i prodotti principali risolvono i problemi o soddisfano esigenze. Vale la pena porsi come obiettivo quello di essere il migliore al mondo nel fornire il proprio prodotto principale. A differenza dell'omaggio e del prodotto per prospect, questo articolo richiede un impegno totale nell'offrire una soluzione a problemi che affliggono il cliente. Serve un prodotto completo, non l'idea. Una soluzione in pacchetto, non una promessa di un futuro qualcosa. All'Adent Global il nostro prodotto principale sono gli acceleratori di aziende. Siamo il migliore al mondo in quello che facciamo per il mercato che serviamo. Aziende di servizi con meno di 50 impiegati. Non siamo i migliori acceleratori per aziende tecnologiche. Y Combinator occupa quella posizione. Mentre la maggior parte degli acceleratori si contende 22enne esperti di tecnologia, noi ignoriamo quella fetta di mercato e cerchiamo persone con più di 15 anni di esperienza nell'industria tradizionale. Fine. Ora anche questo capitolo a mio avviso è molto molto interessante, soprattutto la frase in cui Daniel Presley scrive, vale la pena porsi come obiettivo quello di essere il migliore al mondo nel fornire il proprio prodotto principale. Questo perché? Perché racchiude una verità molto molto specifica, ovvero quello di focalizzare la propria attenzione su una nicchia di mercato molto stretta. Ho parlato nelle pillole scorse, nelle settimane scorse, di come identificare il proprio cliente ideale, quindi cercando di restringere sempre di più il campo e inconsciamente probabilmente dicevo la stessa cosa, ovvero trovare quella nicchia di persone che hanno precisamente bisogno di voi per quello che voi fate. Se i vostri potenziali clienti sono molti, nel senso che c'è un raggio molto ampio, voi come azienda, come libri professionisti, avete o meglio dovreste avere una caratteristica particolare, ovvero un qualcosa che aiuta di più determinate persone. Ne ho fatto tanti esempi di questo, faccio un ultimo esempio anche in questa pillola giusto per ribadire il concetto. Immaginiamo che voi abbiate una ditta edile e siete incredibilmente bravi nel rispettare i tempi di consegna, di ristrutturazione, di tutto quello che fate. Benissimo. Ci saranno alcuni clienti che non gli interessa se la loro casa magari viene costruita con due o tre mesi di ritardo se in compenso risparmiano qualcosa. Ci saranno altri potenziali clienti invece che hanno incredibilmente bisogno di precisione, di velocità nei lavori che sono disposti a spendere molto di più per riuscire a soddisfare quella loro richiesta, quella loro esigenza. Questa cosa significa che tutte le persone che devono ristrutturare possono avere bisogno di voi ma ci sarà una piccola fetta di mercato che avrà bisogno specificamente di quella vostra caratteristica. Benissimo. Voi dovreste diventare il migliore al mondo nel soddisfare questa cosa. Se voi riuscite a definire bene questa nicchia e a servire questi clienti, a comunicare la vostra differenzazione in maniera molto efficace questo non sarà difficile. Anzi sarà molto facile riuscire a trovare clienti perché troverete le persone che hanno bisogno della vostra caratteristica principale. E questo senza bisogno di chiedere sconti, vendersi, insistere per riuscire a fare la vendita e così via. Perché ci saranno persone che hanno esattamente bisogno di voi ed è quello che dovete fare. E questo è ciò che Daniel chiama il prodotto principale. Quindi cercate di perfezionare al meglio il vostro prodotto principale per un determinato tipo di persone e vi assicuro che sarà molto molto più facile. Invece riprendendo il concetto di questo asset, del prodotto principale, a rigor di logica o meglio per alcuni business sarà una conseguenza naturale dei primi due aspetti. Quindi una persona viene a conoscenza della vostra esistenza per uno dei vari prodotti omaggio che voi date. Che può essere una semplice brochure o un video su youtube, non importa. Un qualcosa che la persona può usufruire gratuitamente senza nessun tipo di impegno. Passo numero uno. Secondo punto la persona farà un passo verso di voi tramite il prodotto per prospect. Se manteniamo come esempio quello della ditta ideale potrebbe essere quello di fare una richiesta di preventivo. Ok? Quello può già essere un prodotto per prospect. Perché sono persone che sono venute a conoscenza della vostra esistenza, hanno dimostrato interesse e hanno fatto un'azione verso di voi inviandovi tutto il capitolo atto, quello che c'è insomma e hanno fatto un'azione che gli è costato tempo ed energia quindi oggettivamente si sono impegnate. E le persone non si impegnano a caso. Tutte hanno mille cose da fare per cui se hanno fatto quell'azione sono effettivamente potenziali clienti. In questo caso un prodotto gratuito. In altri casi può essere un prodotto a pagamento ma non importa. Tutto questo percorso serve poi per vendere il prodotto principale, quello per cui voi dovreste essere conosciuti nel mercato ed è ciò che voi fate incredibilmente bene. Per cui oggi vi lascio riflettere su questa cosa, sul vostro prodotto principale e cercate di collegare il tutto anche ai due prodotti precedenti. Quindi al prodotto per prospect e agli omaggi. Perché se voi iniziate a creare tutto questo percorso, il vostro ecosistema, la vostra azienda inizierà a muoversi in maniera molto più fluida, molto più naturalmente e i risultati arriveranno davvero in maniera molto più semplice. Con questo è tutto. Se avete già un prodotto maggio, un prodotto per prospect e un prodotto principale ben definito, scrivetemelo nei commenti o scrivetemi via mail perché sono davvero curioso di vedere come l'imprenditoria italiana si sta muovendo. Inoltre se avete trovato utile questo video cliccate mi piace, condividete, taggate i vostri amici che avrebbero bisogno magari di ascoltare questa lezione consigliata da Daniel Presley dal libro Le 24 chiavi della crescita. Io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, vi ricordo che è presente la mia skill di Alexa, potete chiedere Alexa apri marketing strategico oppure potete cercare la skill pillole di business e aggiungerla nella vostra routine quotidiana. Vi invito di inoltre ad iscrivervi alle mie pillole di business via mail e tutte le mattine alle 7 riceverete una mail appunto che si legge in tre minuti riguardante marketing, business, in alcuni casi crescita personale, lo potete fare gratuitamente dal sito pillole di business.com. Vi consiglio anche di leggere il libro di Daniel Presley, Le 24 chiavi della crescita e con questo finito io sono Massimo Martinini e vi saluto. Ciao!